Allora faccio un breve video per condividere con voi una testimonianza di un uomo che per 28 anni è stato in una delle tante divisioni, denominazioni evangeliche. Voi sapete la mia testimonianza che io sono cresciuto nell'organizzazione dei testimoni di Geova e che ne sono uscito dopo 39 anni. I testimoni di Geova sono una delle 50.000 divisioni, 7, dei sola scrittura, cioè che vengono da Lutero. E quindi adesso vi leggerò questo email che mi è arrivato da parte di questo uomo. Non vi dico il nome per motivo di privacy, però condivido con voi questa testimonianza. Allora vi leggo quello che mi ha scritto quest'uomo, che comunque saluto. Ciao fratello Giuseppe, mi chiamo Pundini Pundini, ecco non dico il nome, e sono siciliano come te. Volevo farti i complimenti per i tuoi video su YouTube, nel tempo li ho visti tutti. Anch'io purtroppo, come te, anche se in una denominazione diversa, dall'età di 11 anni e per 28 anni, adesso ne ho 39, fino a qualche mese fa, ho frequentato una chiesa evangelica, di cui tutta la mia famiglia ne fa parte. Ma in questi ultimi mesi, dentro di me, ho iniziato ad esaminare me stesso, come dice San Paolo. E ho capito che tante cose non mi quadrano alla luce della Bibbia. Ed ho, come accennato prima, lasciato la denominazione. Ho capito anche, grazie ai tuoi video, che vivevo un cristianesimo monco, senza dare il giusto posto alla vera dottrina, che mi hanno sempre insegnato a rigettare. Ossia, ciò che riguarda i Santi, la Beata Sempre Vergine Maria. Adesso non so cosa fare al pensiero di possibili conflitti familiari. Ecco perché ti ho contattato. Chiedo un tuo consiglio in merito. Grazie, Dio ti benedica insieme alla tua famiglia. Io chiaramente gli ho risposto. E poi lui mi ha, a sua volta, risposto nuovamente con queste parole. Grazie di cuore per la tua risposta. La attendevo con ansia. Perché so che tu mi puoi capire, essendo che hai vissuto una situazione uguale alla mia. Io, come ho accennato, per 28 anni ho frequentato assiduamente la chiesa evangelica. Ero un membro molto attivo in diverse aree. Il pastore mi considerava un suo pupillo. Ho anche predicato diverse volte dal pulpito nei culti. A mia vergogna ti confesso che anch'io, come Lutero, ho fatto opposizione alla chiesa cattolica. In modo ferreo mi chiamavano con il nomignolo di Luterino. Tra virgolette. Quindi lo chiamavano Luterino. Perché mi mettevo fuori dalle chiese cattoliche a dire alla gente che erano figli della menzogna e destinati all'inferno, se non si ravvedevano. Ho collocato con diversi preti, ma sempre in opposizione. E solo oggi ho compreso che ero io quello che si doveva ravvedere e fare in versione di rotta. Ho studiato sì da piccolo tutte le versioni della Bibbia. Ho una libreria personale con più di 50 Bibbie, oltre libri vari, sempre di matrice evangelica. Ma oggi, più che mai, mi vergogno di me stesso e del tempo perso. Tutta la conoscenza accumulata negli anni era solo lettera morta, senza il soffio dello spirito che vivifica. Ho compreso che i miei passi non erano nella giusta strada. Ma il Signore ha avuto pietà di me e mi ha fatto capire che quello che sbagliava ero io. Ed i tuoi video per me sono state una chiara conferma da parte del Signore. Chiaramente la gloria, per questo che vi ho letto, c'è un'anima che si converte. E questo devo dire che è successo anche a me, è successo anche a mia moglie. Ho anche un fratello, anche lui come me è cresciuto nell'organizzazione dei testimoni di Geova, che anche mio fratello insieme a sua moglie si sono diventati, praticamente si sono convertiti e sono diventati cattolici. Come anche io e mia moglie, la stessa cosa. E quindi è una gioia leggere, diciamo, simili testimonianze. Quindi io mi sono rallegrato molto di questa conversione. Chiaramente il merito non è mio, non è i miei video, nel senso sono uno strumento che Dio magari può usare per toccare il cuore di una persona. Ma la gloria va sempre a Dio. Quindi questa testimonianza l'ho voluta leggere perché ho chiesto chiaramente il permesso di poterla leggere a colui che mi ha scritto. L'ho letta per condividerla insieme a voi, affinché anche voi vi rallegate insieme a noi di questo. e per farvi comprendere anche che ultimamente diversi stanno uscendo da queste sette, da queste denominazioni, organizzazioni dei sola scrittura, tra cui testimoni di Geova, evangelici, pentecostali, ce n'è di tutti i gusti e di tutti i tipi. Sono tutte sette, tutte cinquantamila, questo non mi stancherò mai di dirlo. Con questo non significa, attenzione, non deve essere un'offesa per chi fa parte di queste sette e denominazioni. La parola setta è perché appunto loro sono divisi tra di loro. Noi li consideriamo eretici, ma la parola eretico non è una parola offensiva. L'eretico la parola significa che sceglie. Cioè l'eretico, la parola eretico, ha questo significato. Cioè che sceglie. Sceglie lui. E quindi per questo noi li chiamiamo eretici. Quindi non è qualche cosa di offensivo. Devo dire che in queste organizzazioni, in queste sette, anche nei testimoni di Geova, come anche negli evangelici, ci sono tante brave persone. Io conosco personalmente tanti testimoni di Geova che sono brave persone, bravissime persone. Conosco anche tanti evangelici perché ho anche frequentato questi ambienti evangelici, sia pentecostali che anche chiese riformate, cessazionalisti. Ho frequentato la chiesa dei fratelli. Quindi ci sono brave persone dentro queste organizzazioni. Ma il problema non è il fatto, noi non stiamo accusando queste sette, queste organizzazioni, di essere tutte cattive persone. Non è questo il punto. Perché ripeto, dentro queste organizzazioni, queste denominazioni, ci sono tantissime brave persone, sincere, oneste, che fanno quello che loro fanno, lo fanno, convede, pensano di fare la volontà di Dio. Ma purtroppo devo dire che sono ingannati. Ora, siccome la scrittura ci insegna che fuori della chiesa non ci può essere la salvezza perché Cristo ha costituito una chiesa, questa chiesa la possiamo paragonare come un'arca. Noè si è salvato perché aveva fede, ha costruito l'arca, ma poi è entrato dentro l'arca. Quelli che sono rimasti fuori dell'arca sono tutti morti. Perché poi c'è stato il diluvio. Quindi, la chiesa la possiamo paragonare a quest'arca. Quindi, uscire fuori dalla chiesa, sebbene uno in buona fede, perché anche i testimoni di Giova sono in buona fede, e sebbene quella può essere anche una bravissima persona, ecco, solo perché esce fuori dalla chiesa, purtroppo, secondo le scritture, quella persona non può essere salvata. Quindi andrà poi in giudizio. Chiaramente, poi io non so Dio, sarà Dio a giudicare, perché Dio conosce il cuore, gli intendi, e quindi sarà Dio a giudicare poi queste persone. Però io, per l'amore di Cristo, per l'amore della verità, io devo dire la verità. cioè, se tu fai parte di una di queste 50.000 denominazioni, diverse sette, organizzazioni dei sola scrittura, uguale, testimoni di Giova, protestante, pentecostale, chiesa dei fratelli, sappi che tu così sei in pratica in pericolo, perché non hai la salvezza. a parte che loro appunto non hanno nemmeno i sacramenti, non si cipono del corpo di Cristo, perché a parte non ci credono che l'Eucarestia è realmente il corpo di Cristo. Inoltre, i loro pastori, i pastori di queste denominazioni e organizzazioni varie, non hanno nessuna autorizzazione ricevuta da parte di Dio di ministrare il sacramento dell'Eucarestia. Quindi, quello che fanno queste chiese in pratica è nullo agli occhi di Dio. Hanno la fede, sì, però non hanno le opere, perché non mettono in pratica, non essendo sottomessi alla chiesa, rigettando il sacerdozio, quindi rigettono loro la chiesa cattolica e i sacerdoti, rigettando quindi i sacramenti, queste persone purtroppo non possono ricevere la salvezza e quindi poi andranno nel giudizio, poi sarà Dio a giudicare, io personalmente penso che molte di queste persone alla fine, però sto parlando alla fine dei tempi quando ci sarà il giudizio finale, probabilmente Dio avrà misericordia anche di queste persone, però il punto è questo, tutti quelli che sono morti, i pentecostali, gli evangelici, i testimoni di Geova, tutti quelli sono morti durante questi 500-600 anni che ci sono queste organizzazioni, purtroppo non essendo salvate dove vanno? Vanno nelle tenebre, quindi in questo momento si trovano nei tormenti, si trovano separati da Cristo, ma avevano la fede, credevano in Gesù, certo che ci credevano, ma il punto è che non erano sottomessi all'autorità che Gesù ha costituito e questa autorità la troviamo solo nella chiesa nella chiesa cattolica, quindi queste persone purtroppo sono in un grave pericolo, pure che sono bravissime persone e quindi come è successo a me e a mia moglie, a mio fratello Carmelo e anche a altri che saluto per esempio ultimamente uno che si chiama Gianluca, anche lui ha raccontato su YouTube la sua testimonianza che per alcuni anni frequentava la chiesa evangelica e poi si è ravveduto anche lui si è reso conto come è successo anche a me che era nell'errore e quindi ha abbandonato e è tornato cattolico così anche io mi sono reso conto perché quando io frequentavo queste sette diciamo queste denominazioni organizzazioni a parte i testimoni di Geova perché lì io ci sono cresciuto però ho frequentato così per curiosità per vedere un po' alcune denominazioni evangeliche tra cui una pentecostale e un'altra chiesa dei fratelli però quando io vedevo che leggendo la Bibbia loro andavano contro già alcune cose scritte nella Bibbia in pratica facevano tutto al contrario di quello che stava scritto e e lì mi sono reso conto ho detto ma questa è la guida dello Spirito Santo allora non ce l'hanno perché non sono guidate dallo Spirito perché non puoi credere nella menzogna se tu credi nella menzogna come fai a dire di essere guidato dallo Spirito Santo se voi prendete tutte queste denominazioni tutte queste persone che appartengono a queste diverse denominazioni e gli fate la domanda dici ma tu sei guidato dallo Spirito loro diranno sì noi abbiamo lo Spirito Santo però poi vi accorgete se li mettete insieme per confronto vedete che uno dice una cosa un altro dice un'altra cosa per esempio uno dice che bisogna perseverare fino alla fine l'altro ti dice no la salvezza non la puoi perdere uno ti dice per dire così e un altro ti dice colà quindi tra di loro contrastano ecco perché infatti sono divisi tra di loro nessuno di loro è in comunione cioè tutte queste organizzazioni queste 50.000 diverse organizzazioni religiose tra di loro si combattono cioè ognuno cerca di tirare acqua nel proprio mulino ecco che lì ti accorgi che questi in realtà non sono guidati dallo Spirito Santo perché Gesù quando parla dello Spirito Santo nel Vangelo di Giovanni dice che lo Spirito Santo è lo Spirito della verità lo Spirito di verità e vi guiderà dice la scrittura in tutta la verità quindi è impossibile che a uno gli rivela un qualche cosa a un altro invece lo stesso Spirito Santo gli dice tutto al contrario quindi quello che ci hanno queste persone a guidare queste persone in realtà non è lo Spirito di verità ma è lo Spirito di menzogna è la loro stessa mente carnale che li guida questo è ovvio e di questo io mi sono reso conto come me si sono reso conto anche altri come anche questo Gianluca e alla fine abbiamo lasciato queste sette organizzazioni e quindi essere cattolici è la miglior scelta nonostante tutti i problemi che attualmente c'è e ci sono nella Chiesa Cattolica Romana per esempio però la Chiesa Cattolica c'è da duemila anni in tutto il mondo c'è la Chiesa Cattolica anche le Chiese Ortodosse chiaramente per cattolico intendo dire Chiesa Universale perché la parola Cattolica vuol dire Universale quindi quello che io incoraggio a fare ognuno di voi se fate parte di queste diverse organizzazioni religiose e vedete che tante cose non tornano fatevi un autoesame e chiedetevi il perché perché queste persone sono così ingannate e tornate alla vera Chiesa alla Chiesa Cattolica questo è quello che io vi posso dire quindi qui concludo la testimonianza ecco è molto chiara questo uomo è stato per 28 anni in una di queste denominazioni evangeliche addirittura predicava contro contro la Chiesa Cattolica ma poi si è reso conto anche alla luce delle scritture si è reso conto perché io ho fatto diversi video dove ho confutato ho difeso appunto le dottrine insegnate della Chiesa Cattolica tipo quella che riguarda la Beata Vergine Maria o che riguarda i Santi che i Santi intercedono per noi ho dimostrato con le scritture che la Chiesa Cattolica ha ragione c'è la dottrina cattolica è quella giusta quella perfetta perché è secondo le scritture è secondo la tradizione è secondo tutto ciò che credevano anche i padri della Chiesa perché abbiamo molti scritti dei padri della Chiesa che testimoniano appunto tutto quello che viene insegnato oggi dalla Chiesa Cattolica Romana quindi per concludere invito tutti quanti almeno le persone sincere perché quelle che non vogliono non vogliono sentire ragione insomma quelli che hanno il cuore indurito non c'è niente da fare non si può neanche discutere ma quelle che persone che veramente stanno cercando la verità allora vi invito a esaminare bene la vostra situazione e se vedete che in queste organizzazioni qualche cosa non va tante cose non vanno in pratica il motivo è perché quelle non sono non sono la Chiesa di Cristo sono semplicemente delle sette delle divisioni che il diavolo ha creato per portare anime fuori dalla Chiesa quindi tornate nella Chiesa Cattolica questo vi posso dire va bene qui concludo una buona giornata